10esima volta nooo dai alzi tipo la cammina su ultima chance fino a lì bravissimo bravo Ipola si spende quella ragazza no dai questa è una tegola questa è una tegola veramente la ragazza è rigore figa ma è rigore è schifo è rigore ma è incredibile ma è incredibile non stai in piedi di che bastardo no perché dove fai non stai in piedi non stai ma cagare la ragazza una scena ma la scena 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 una scena 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 Grazie a tutti